Le testimonianze sulla chiesa di San Martino a Legnano che ci riportano alla battaglia. Nel territorio dell'antica Contrada, in Galvagno, i primi insediamenti è una recropoli. È il territorio di San Martino e la battaglia contro il Barbarossa. Il territorio dove sorge la chiesa di San Martino è fondamentale per la storia di Legnano, non soltanto per alcuni riferimenti topografici connessi con la battaglia contro Barbarossa, ma anche per i numerosi ritrovamenti archeologici romani e preromani, che hanno fatto tracciare la mappa di una vasta necropoli localizzata in tale zona, risalente ad epoca compresa tra il secolo II e il I avanti Cristo. Nel maggio del 1994, a non molta distanza da questo edificio sacro e in direzione nord-ovest rispetto alla chiesa, erano affiorate alcune vestigia di un insediamento abitativo dello stesso periodo e i resti di un laboratorio artigianale con forno di cottura per ceramiche. Sulla collina di San Martino si deve quindi dedurre vissero i primi abitatori di Legnano, al riparo delle piene del fiume e in posizione dominante la Valle Olona. Il censimento nominativo di Legnano del 1594, questa zona è indicata come contrada in Galvagno, dal nome di battesimo dei nobili del tempo come Crivelli e Visconti. Afferma Guido Suttermeister, in una memoria della società Arte e Storia, proprio a commento di questo censimento steso dal prevosto Giovan Battista Specio, che «Il sistema topografico antico delle strade, in vicinanza di un corso d'acqua disseminato da mulini, è costituito da tante parallele che corrono verso l'ubicazione dei mulini stessi. Tra queste strade si trovano collegamenti trasversali e in vicinanza di avvallamenti, vie diagonali di arroccamento. La via San Martino è una di queste, comprese tra la linea della cascina berlingera che conduce alla gabinella e la via vecchia per Borsano, che è l'attuale via della Vittoria». La chiesetta di San Martino, continua Suttermeister, è giudicata quattrocentesca, ma era già segnalata nell'elenco lasciato dallo storico Goffreddo da Bussero. Potrebbe avere quindi anche origini più lontane. In proseguimento alla via San Martino, vi è un'altra diagonale che, salendo a Ponente, si collega con la strada detta del Confinante, che oggi è via Dandolo, in un punto non molto distante dalle località Buongesù e Borsano, nominate dalle descrizioni della battaglia di Legnano. Lungo questa stessa diagonale, il territorio di Legnano, vi era una chiesetta dedicata a San Giorgio, di epoca medievale, che aveva anche pregevoli a fresche le pareti. Per la cronaca, aggiungiamo, alla fine dell'Ottocento, a seguito di epidemie di colera e vaiolo, questa chiesetta fu adibita a Lazzaretto e successivamente, purtroppo, abbattuta. Di essa non si è conservata nessuna traccia, ad eccezione di un'immagine ad Acquerello, tramandateci già da Giuseppe Pirovano, e conservata al Museo Civico. Il territorio di San Martino è la battaglia contro Barbarossa. Tornando alla chiesa di San Martino, così conclude i riferimenti storici Guido Suttelmeister. Siccome in una descrizione di fronte germanica della battaglia di Legnano è detto che i milanesi del Carroccio avevano dietro di loro un fosso, è ovvio definire che la loro strada di Arrocco sia stata quella delle diagonali predette. Siamo alla seconda fase della battaglia di Legnano, quella seguita al primo scontro con l'esercito imperiale tra Borsano e Cascina Mazzafame. Il chiaro riferimento è quindi alla collina di San Martino, con la scarpata degradante fino alle sponde dell'Olona. In realtà l'esercito milanese della Lega Lombarda aveva scelto la collina di San Martino come ostacolo difensivo per attaccare dall'alto al Barbarossa che era atteso dalla Valle Olona al confine con Castellanza. Non pensavano infatti i Lombardi che l'esercito imperiale proprio per evitare il territorio di Legnano da Cairate volesse puntare invece su Borsano e Turbigo per imboccare la strada diretta al Ticino e raggiungere quindi Pavia. Da tutto ciò deriva, come abbiamo premesso, l'importanza storica della chiesa di San Martino e del territorio circostante. Un altro riferimento che ci conferma l'esistenza sul luogo dell'attuale chiesetta di una più antica e precedente costruzione religiosa è contenuto nel testamento di Giovanni da Legnano, giure consulto e uomo politico legnanese vissuto nel XIV secolo. Nell'atto, stilato in data 27 marzo 1376, si legge «Coloro i quali il testatore ha lasciato l'usufrutto dei suoi beni in quel di Milano e in quella località di Legnano sono tenuti nell'anniversario della sua morte a fare celebrare ogni anno una messa nella chiesa di San Martino a Legnano e a fare ai poveri l'elemosina di un moggio di pane, fermo restando il consolidamento dell'usufrutto della proprietà in mancanza di adempimento da parte degli usufruttuari ed eredi». Nella storia antica delle chiese di Legnano scritta dal prevosto Agostino Pozzi nel 1650 San Martino viene descritta come chiesa campestre posta fra le vigne tra Sant'Angelo che era un convento dei frati minori osservanti fondati dal beato Michele Carcano alle volte si cantava messa in questa chiesa alla festa di San Martino e si costumava a distribuire certo pane fatto di forma di quella che si costuma alla festa di San Nicolao il medesmo si faceva la festa di San Bernardo a Rescaldina la precedente e più antica chiesa di San Martino aveva un orientamento originario nord-sud e l'ingresso era l'attuale via Bellingera nella ricostruzione e ampliamento del XV secolo tale orientamento venne modificato col trasporto della facciata a ovest cioè verso l'odierna via San Martino alla confluenza con via Roma il cronista Giuseppe Pirovano riferisce che nel 1661 si iniziò a fabbricare di fianco la chiesa la casa per il capellano che non fu terminata perché lo stesso si rifiutò di abitarla in quanto troppo fuori dalla borgata al mantenimento del chiericato per questa chiesa porovidero da prima i Borromeo poi le famiglie Prata e Prandoni la dedicazione del tempio al santo francese fu dovuta alla particolare devozione che a quei tempi godeva il vescovo di Tours 316 circa al 397 San Martino stando alla tradizione diede prova della sua carità e attenzione per il prossimo tagliando in due il proprio mantello per donarne la metà a un povero fu propugnatore delle prime chiese rurali qual è appunto quella di cui ci occupiamo unica sussidiaria della parrocchia di San Domenico San Martino ha una forma semplice ad aula rettangolare con un pregevole soffitto a cassettoni ben conservato nella parte absidale è posto un affresco incorniciato raffigurante la deposizione del Cristo con la Vergine addolorata e le piedonne lo stile dell'opera è tale da farla risalire al XIV secolo ed è di autore ignoto secondo il cronista e pittore ottocentesco legnanese Giuseppe Pirovano l'affresco potrebbe essere stato eseguito nel Cinquecento da Giovanni Lampugnani attribuzione che si contraddice con altre fonti secondo le quali il dipinto sarebbe invece trecentesco degli altri antichi affreschi di stile Lombardo Bizantino che adornavano questo tempio prima del rifacimento resta soltanto sulla parete di sinistra per chi entra un frammento col volto di Cristo forse facente parte della vecchia Via Crucis ai lati della balaustra vi sono due recenti affreschi di modesta fattura raffiguranti rispettivamente San Martino e San Domenico rifacimenti rifacimenti e restauri finanziati dalla contrada nel 1700 la chiesa subì ancora subì ancora subì ancora alcuni interventi e fu costruito un campanile con una cornice movimentata sopra la cella campanaria e un piacevole ornamento più sotto in epoca più recente tra il 1977 e il 1983 per l'interessamento della contrada di San Martino allora guidata da Sandro Gregori la chiesetta fu interessata ad alcuni lavori di restauro con pulizia degli antichi affreschi rimasti rifacimento del tetto e della pavimentazione di cotto e collocamento di un'artistica vetrata nella finestra della facciata opera di Roberto Maria Mascheroni infine fu realizzato sul sagrato un grande mosaico policromo in marmo dell'artista libanese e il Baca entrambe le opere sono ispirate a temi della battaglia di Legnano e della contrada nel 1984 è stata inoltre affrescata la parte di sinistra dell'interno della chiesa con la scena di San Martino nell'atto di spartire il mantello con un mendicante di San Martino di San Martino di San Martino di San Martino Grazie.